Il pino cembro e la nocciolaia sono presentati nelle due vetrine delle collezioni minime a Palazzo Lascaris, allestite dal Museo Regionale di Scienze Naturali, esposte fino al 15 settembre nell'atrio della sede del Consiglio regionale. Il cembro è un pino a cinque foglie che vive soltanto nelle zone fredde e temperato fredde dell'Eurasia e la nocciolaia, uccello passeriforme della famiglia dei corvidi, si nutre dei semi del cembro e non lo danneggia ma anzi ne favorisce la disseminazione.